Questo è un centro di eccellenza e la testimonianza di questo è semplicemente legata, se vuole un esempio, al motivo per cui oggi siamo qui, cioè quello di celebrare il fatto che questo luogo sarà uno dei tre centri per la gestione del nuovo sistema che va sotto il nome di Iris Square o Iris II, con attività sicura, con benefici per i cittadini e per gli antigovernativi, una cosa molto importante, un'iniziativa europea in cui noi siamo presenti attraverso dell'espazio e auspicabilmente anche attraverso altre aziende del comparto nazionale.